Le festività natalizie appena trascorse sono state l'occasione per aprirsi con gioia e serenità al prossimo, concentrando tempo ed energie in attività che presi dalla routine quotidiana spesso vengono lasciate da parte o completamente dimenticate. Dedicarsi ai propri familiari, aiutare le persone in difficoltà, allietare i pomeriggi degli anziani in casa di riposo ed è andata proprio in questo senso l'iniziativa che ha coinvolto il coro femminile Val di Zoldo che qualche giorno fa è stato protagonista di un incontro musicale dedicato agli ospiti del Centro Servizi Santin di Ciamber. Il gruppo ha eseguito canti della tradizione natalizia e di montagna, catturando l'attenzione silenziosa dei presenti, un gesto semplice ma con un significato profondo sia per chi ha donato sia per chi ha ricevuto. Un pomeriggio in compagnia, in memoria dei vecchi tempi, nel pieno spirito natalizio di condivisione e fraternità. Alla fredda tua cappana, noi veniamo a giubilare. Al termine in alto i calici per un piccolo brindisi con l'augurio, giunto dalla direttrice della formazione corale Mariangela Dorigo di un felice anno nuovo da passare accanto ai propri familiari. Per cui lascio la mia vita, montagna a Dio, non discorderò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.